Un trionfo in questo weekend, pensavamo che non si potesse fare meglio di Sarno invece primo, secondo e terzo questa volta. Sì, è andata non bene, benissimo al di sopra delle nostre aspettative, pensavamo di non farcela a mettere a podio almeno due dei tre, però si vede che i ragazzi che sono stati veramente bravissimi hanno fatto quello che gli è stato detto, sono stati splendidi e il risultato che stiamo portando a casa per noi è il massimo possibile, lo è perché in 35 anni che faccio questo lavoro è la prima volta che succede che portiamo un podio completo a casa, con tre piloti diversi, con tre caratteristiche diverse, siamo veramente felici e contenti di quello che è successo oggi qui a Udine. Adesso chiaramente ci sarà, adesso a fine stagione ci sarà il cambio di categoria per alcuni vostri piloti e li seguirete, non li seguirete, come funzionerà? Ma adesso si sta parlando perché due dei quattro piloti che abbiamo compiranno l'età e sarà possibile passarli a fine anno nella KF Junior, si sta parlando perché anche loro non vogliamo distrarli da questa categoria che è molto importante, per loro è formativa e per noi, per cercare di comprendere meglio quello che servirà ai piloti nuovi, ma stiamo lavorando anche per loro, per i due pilotini che sono Eliseo Martinez e Costantinos per il passaggio di categoria in KF Junior, vedremo cosa succederà tra qualche mese, pensiamo a quello che succede adesso.